Buonasera, siamo qui a Pergine Valdarno e siamo con Simona Neri, sindaco del comune di Latelina a Pergine Valdarno. Sarà con noi il 17 novembre per l'iniziativa Contro il gioco d'azzardo. Lei è molto esperta nella tematica e Simona dici qualcosa di più. Io sono il responsabile di Anci di Toscana per quanto riguarda il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Purtroppo è una piaga sociale che sta crescendo, lo abbiamo visto anche dagli ultimi dati della raccolta gioco del 2017 che è salita in Italia e anche nella nostra provincia di Arezzo con un più 3 milioni di euro. La mia attività è rivolta sia alla sensibilizzazione su questo tema ma anche siamo riusciti a distribuire presso tutte le amministrazioni locali un regolamento per il contrasto al gioco d'azzardo che contiene alcune possibili iniziative ed abbiamo anche aggiornato la legge regionale della Toscana. Per cui insieme possiamo fare rete, possiamo approfondire questa patologia che purtroppo sta prendendo sempre più campo ed è diffusa in modo trasversale sia per quanto riguarda il genere che per quanto riguarda l'età. Quindi sono davvero molto felice di poter portare questo contributo alla nostra iniziativa. Anche perché credo che oggi come oggi è una tematica ed è una piaga che non possiamo più prendere sotto le gambe. Vi aspettiamo il 17 novembre, Sala dei Grandi, presso la provincia di Arezzo. Ciao!